Salve ragazzi, sono le più due video che di oggi siamo in una nuova challenge sul calcio ragazzi giriamo nella giravolta challenge dove praticamente dobbiamo fare un sacco di giravolte in modo che ci giriamo in testa e dobbiamo tirare nella porta cercando di fare tutto quindi vi dico che è molto difficile vabbè ragazzi io chiedo ben 100 like per questa sfida 200 no 100 vanno benissimo per una prossima challenge sul calcio e adesso cominciamo ah mi ero dimenticato di dirvelo ci sono dei ditti qui John Gamer Tony Gamer Pierre Gamer vabbè dai cominciamo Comincio di Videogamer HD dovrò fare ben 20 giravolta quindi morirò Snoop Dogg non 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 no, 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 no hai geniato bierre Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.